Buah hey, ben ritrovati da Andralink con il turno su Captain Tsubasa Rise of the New Champions Oggi continuiamo la storia personale e partita contro la Musashi Ragazzi siamo in dirittura d'arrivo e secondo me la prossima è proprio la Nankatsu E dopo quella vedremo cosa accadrà Attenzione, c'è un evento Ah, ma guarda un po', chi è? Ah, Takasugi E poi aumentare il legame con alcuni giocatori ti fa anche attivare queste scene particolari Che ti danno più punti che potrai poi usare appunto nelle statistiche, abilità, attacco, difesa eccetera eccetera Eccolo qua Quanti eventi, basta, basta, basta Ancora! Ma basta! Oh, finalmente Contro la Musashi, vai, mi alleno e cambio un po' di abilità qua che ne ho ottenuto un bel po' Mizuki, ho guardato molti video delle tue partite Non sembrerebbe che il tuo cuore abbia qualche problema Sto bene, non preoccuparti per me Mi fa piacere Perché oggi non ci andrò così piano Ti conosco, non l'avresti fatto comunque Oh, quindi mi hai studiato anche tu? Dovevo aspettarmelo Allora sei già che per me non conta chi ho davanti Io ero sempre il massimo Sarà una squadra leale Ci vediamo in campo, Matsuyama Vedrai Alla fine dell'incontro Sarà la Furano a portare a casa il risultato È ovvio Oh, salve Ho studiato a fondo il tuo giocatore Sarà una bella partita Una partita che vincerò io Ebbene ci siamo Prego Io parto sempre con il mio all'inc Perché voglio subito potenziare subito Il suo grado in questa partita Guarda un po' che contrasto Boom Era un carro armato? Sì, era un carro armato ragazzi Wow Che bella Sono fortissimo Ho anche il tiro della banana Ho dato al mio giocatore il tiro della banana È forte però Raggio medio E effetto Insomma Ce l'hai le qualità per essere un tiro potente Voglio dire Vai, tiro dell'apila subito Dalla distanza Ovviamente C'è il solito Babaleo Che lo blocca Maledizione Ne risente Ne risente il tiro in effetti Sì, ne risente Oh, cavallo Ma non è il tiro lui? Nera carico forse Eh, Yamamuro Le pozzi no Matsuyama, 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 Matsuyama Matsuyama Oda, Oda, Oda E vabbè Non c'era mai Nell'area Probabilmente Il proiettile Tiro corto Raggio corto Non Ho reagito tardi Oh Fregata Ah, sono punti Se intercetti la palla Dicevo Sono punti Se intercetti la palla Vabbè Lì Ero in ritardo Proprio Ci sta Boom Boom Eh, sì Buonanotte, Andrea Cosa è successo? Cosa è successo? Boom Opla Oda Ma dai Che palle Quando è così Perché? Perché ha scattato? Perché? Chi te l'ha detto di scattare? Ma ragazzi Ma scherziamo? Ma perché fate di coccia vostra? Mamma mia Fanno i test a loro Ecco, vedi poi che succede? Mannaggia raga Tutti quanti qua giù stanno Attacco, 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 attacco Tutto qua giù si sta svolge il gioco Che seccatura Mazza lì Vai Link vai falli secchi Vabbè vabbè Niente da fare Dove attivare la zona B? Devo attivare per caso Vai Attiva la zona B Travolgilo Link Travolgilo Car armato Tiro della banana Eh vabbè Ma dov'era questo? Dove era? Dove si è presentato che non c'era? Ma cosa fate? Cosa fate? Vabbè ragazzi ho capito Dai Questa partita è proprio difficile Però io sono più Più Difficile di voi da battere Cosa perde Yamamuro Già la fai Devo avanzare assolutamente Tutti quanti della parte mia stanno È incredibile È incredibile Non ce se la fa Avanti Riproviamoci Cos'era? Cosa Koemisugi No Bene 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 Non c'era Non c'era nessuno Ottimo Però il portiere è carico Niente Non ce la facciamo Se non si scarica un po' il portiere Non ce la facciamo Ma ruba la palla No? Intercettala In qualche maniera Potrebbe bloccarlo Ma il tiro era un po' Ecco Stavo Infatti stavo più fuori Proprio per evitare Che mi No Ma era sulla linea Ma dai Che dolore C'è uno C'è uno che può bloccare il tiro Lì E non lo blocca nessuno E la palla E non va in rete Paura raga Che palla No dai Ecco bravo Nakagawa Ti chiami Uffa Matsuyama 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 Ma non è carico Ma perché non è carico Nakagawa Ma come è fuori gioco Che la tocca del portiere Dov'è Dov'è Ma siamo scemi E poi te lo fa anche rivedere Oh Sarei Bambiti questi Vai Una mossa Moriyama Una mossa Una mossa Moriyama Eh sì Matsuyama però Ci devi stare Eh Vai Riproviamoci Oh che cavolo Ma come ha fatto Avanti Ribloccalo Mori Ribloccalo Avanti Ti voglio vedere E vai 1 a 0 Oh Finalmente Finalmente Eccolo qua Il gol Della vittoria Ovviamente con il naso Che pizzica sempre Porca miseria Sembro un drogato Mi ha fregato il dribbling Però va bene L'importante è che vinciamo Raga Sta partita Porca miseria Hanno fatto un attimino Sclerare Ho avuto paura Di non riuscire a segnare Ah stavolta Non lo blocco Col corpo Goru Mamoruta Beh Ha difeso la porta C'è Il giapponese Semplice Posso parlare Un pochettino Zio Ecco Bravo Zietto Oh da lascia perde Stai davanti Stai lì No Rimani lì Non rompere le scatoline Ci pensa Link Che è grado C solamente E va bene Si è scaricato Non si sa come Non si sa come ha fatto A scaricarsi Ti ripasso la palla Caro Carro armato Ok Ok No non è ok Oh ragazzi Dai I cinose I cinose Si chiama i cinose Oh i cinose Passaggio a banana No Non c'è passaggio a banana Opla Allora c'è il mio giocatore C'è Passaggio filtrante E tiro dell'aquila E lo para Perché è a carico Ovviamente Il portiere Sano E sano Zona V Attivata Ma te la dai io La zona V Eccotela Guarda un po' Che zona V In bocca No Guaru 2 a 0 Boom E beccati questa Ragazzi Contro la Nankaz Allora è fatta Se riusciamo a fare gola Anche a questi La Nankaz Per noi Sarà un gioco da ragazzi Guarda che bello Guarda Misugi Mannaggia Misugi Che bel dribbling Che hai Mannaggia a te Se non fossi Della squadra avversaria Oh 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 Ho detto Eh Eh sì Come Vabbè sì T'ho parata potente Dai Eh Mamoru Rinvio con la mano gigante Non si sa come Opla Oh 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 Ah c'è effettivamente Matsuyama Ah non era abbastanza Parico Che strano Mi ha sorpreso Mazuna Oh 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 Ok Ecco il proiettile Vol Vol Eh sì Blocca la E ora Prima Ah come prima ha bloccato il tiro Dell'Aquila E ora non blocca questa Mi prendi per i fondellini Ecco Eh È finita Meno male Meno male ragazzi Che supplizio Avevo paura Ho avuto paura Lo ammetto Non è vero mai Però a primo tempo senza gol Quando nelle altre partite Già l'avevo fatto Insomma un pochettino Ho dubitato Però è andata bene Ah stavolta ho fatto schifo Col mio personaggio Davvero male Però la squadra A parte gol segnati Buon E giocate critiche Vabbè Per il resto abbiamo fatto bene Non so se più di tanto Non posso aumentare il legame Perché non mi è salito per niente Congito Eppure ho usato le sue tecniche Magari non c'entra niente Magari Però non è salito Perché più di tanto Non posso fare Vabbè Ci abbiamo fatta capitano Abbiamo vinto Ora solo una partita Ci separa dal trionfo Siamo stati tutti fantastici Ancora una vittoria E il nostro sogno si realizzerà Mi hai battuto Matsuyama Non sono stato la tua altezza Stavolta Ti sbagli Misugi Come? Non sono stato io È stata la Furano A batterti È la mia squadra Quella che ha vinto davvero Così parla un vero capitano Ancora congratulazioni Furano Vi auguro di riuscire A tenere testa Da Nankatsu in finale Ah Grazie Ragazzi La prossima Allora è la finale Contro la Nankatsu Oioi La forza di Matsuyama E della Furano Deriva da sudore Sangue E lacrime Devo riuscire a mostrare Lo stesso impegno E superare la mia condizione Ho ancora molte battaglie Da affrontare Matsuyama Yuga E ovviamente Tsubasa Già Link La tua abilità mi ha stupito È stato Quasi come affrontare Tsubasa La sconfitta brucia Ma è stato divertentissimo Non vedo l'ora di aver la mia rivincita Sarà questo A darmi la spinta Per andare avanti Punti amicizia Gommisugi aumentati Ah Va bene Ragazzi Questo video termina qui Io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Nel prossimo finale Contro la Nankatsu Poi vedremo Il da farsi della serie Come sempre Vi ricordo in descrizione Il link per Instagram E il Discord E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Bye